Il pubblico tenorario, grazie, grazie a tutti. Quest'anno va così per tanti motivi, soprattutto quello più famoso che non stiamo a ricordare, che se lo ricordano già tutti i giorni, vi faremo una serata un bel po' di diversità del solito, tant'è che non ho mai appoggiato il sedere su una sedia in vent'anni che faccio questo lavoro, però quest'anno va così, facciamo una cosa un po' più d'ascolto, un po' più l'atmosfera, veramente diverso dal solito, quindi speriamo di non destabilizzarvi troppo, siamo sicuri però apprezzerete se saremo bravi nel nostro intento. Allora buon ascolto a tutti e buona serata. C'è la camicia pianta, c'è molto da piangere a tutti, anche a me che non. Allora buona serata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.